dal nostro bagaglio e quindi ci siamo faremo un po' di analisi del prepartita poi per chi vorrà magari ci fermiamo un po' a guardarla insieme se come comprensibile voi vi vorrete spostare sui canali consoni per vedere la partita lo comprenderemo si può sempre comunque aprire due finestre nel dubbio tu Ricky parti sempre da concezioni tecnologiche di alto livello comunque la partita tra Cremona e Pesaro sta finendo tra l'altro noi ci stiamo alternando tra un salotto effettivo e questo salotto che è stato costruito siamo usciti dal salotto con una partita che era praticamente finita e adesso incredibilmente c'è una partita comunque vi informo che avremo degli ospiti perché avremo un responsabile sia per quanto riguarda Stella Azzura che per quanto riguarda Borgomaniero gli abbiamo già mandato il link tra un cinque minuti dovrebbero arrivare entrambi parleremo un po' con loro abbiamo qualche contenuto da farvi vedere appunto per come prepartita e poi vi diremo anche la nostra su quello che andrà a succedere e ci si può aspettare insomma proviamo a immaginarcela prima di tutto eh sì perché comunque la partita è ancora da giocare però se ne sono già giocate è finita Cremona è ufficialmente la terza classificata di queste finale nazionali delle 19 rimangono quindi le due medaglie più pesanti da decidere e che dire comunque complimentoni ovviamente anche a Pesaro forse un po' di delusione in casa Pesaro dopo la vittoria della Next Gen beh non lo so le aspettative erano sicuramente alte non il miglior accoppiamento in semifinale questo è indubbio poteva andare molto meglio da quel punto di vista una partita complicata che si è decisa sostanzialmente in un quarto l'abbiamo già raccontata ieri le terzo quarto sono partite stranissime sono partite stranissime che giochi a tratti senza motivazione o comunque con sulla stanchezza un po' di tutto il percorso che hai fatto anche diciamo che non è facile allora non è mai facile giocarle per il semplice fatto che non è mai facile essere motivati per giocarle specie quando si hanno aspettative su se stessi come è giusto che ci siano come quelle che ha Pesaro perché Pesaro comunque uscente vincente dalla Next Gen su di sé ha un'aspettativa alta voleva giocare la finale primo secondo perde la semifinale va a giocare questa partita secondo me anche un pelo demoralizzata dall'altra parte una cremona che mi permetto di dire rispetto a Pesaro magari aveva aspettative diverse in fase iniziale buon percorso di Cremona abbiamo visto bene insomma abbiamo commentato insieme anche dei quarti in poi semifinale dove onestamente c'è stata poca storia dove però sono usciti fuori i suoi valori è arrivata qua carica si è giocata una bella partita più costante nel tempo ha rischiato di perdere la finale primo secondo però poi insomma si è si è fatta valere ma scusate la finale terzo quarto e comunque adesso iniziamo ad andare nella partita che ci interessa perché vediamo i giocatori di college scaldarsi immaginiamo che il consueto lavoro fisico che precede tutti i riscaldamenti di Stella Azzurra sia cominciato dall'altra parte del campo eccolo là lo vediamo piccola cosa tecnica prova a chiudere la live di là così magari ci dà più banda in generale intanto questa cosa qua in questo momento vai ce l'abbiamo piccola cosa tecnica piccola cosa tecnica siete 12 in chat quindi vi ricordo di interagire scrivere così possiamo chiacchierare anche con voi in questo pre partita questo studio per la finale della delle finali nazionali appunto finali nazionali in quel di Agropoli Under 19 eccellenza siamo nella categoria più vicina alle prime squadre avremo e quindi ci si aspetta anche un po' una partita dal tono diciamo LBA quasi senior esatto da tono LBA la partita si vedrà a partire dalle 17 e 30 sul canale Twitch di Tal Basket teniamo a ricordarlo ci sono comunque i link in descrizione esatto non abbiamo i diritti i link sono in descrizione trovate tutto quello che vi serve per insomma guardare la partita noi siamo qua come abbiamo già detto per uno studio pre partita in modo tale che poi si possa anche chiacchierare insieme durante durante tutti i quarti e allora iniziamo anche con un tanto che aspettiamo i protagonisti iniziamo anche con qualche previsione vogliamo sapere anche un po' dalla chat vediamo un po' che tifo c'è che tifo c'è della chat vedo Aku che abbiamo già imparato a conoscere nei giorni scorsi sappiamo essere tifoso o tifosa di Stella Azzurra Emanuel portaci a casa a sto trofeo è chiaramente ricercato ricercato innocenti è un protagonista anche secondo noi del non è che ci volesse effettivamente grandi conoscitori però ho fatto uno studio approfondito per trovare il nome del numero 5 però insomma è assolutamente uno dei protagonisti della di questa di tutta questa fase finale di tutto questo torneo finale non solo del campionato è un protagonista assoluto delle giovanili italiane stiamo parlando chiaramente di innocenti che abbiamo apprezzato particolarmente ieri in semifinale abbiamo visto come su due lati del campo sia stata sicuramente la chiave della partita infatti chiederemo un po' anche ai dirigenti delle varie squadre cosa ne pensano dei singoli elementi soprattutto nel secondo quarto in cui poi è scaturita insomma la vittoria di Stella su Pesaro sì e anche in quell'occasione ovviamente la parte forte di innocenti si proietta su entrambi i lati del campo questa è la parte cruciale cioè è l'uomo che può stare sull'uomo fondamentale dall'altra parte e poi lo devi marcare in qualche modo ma siamo nell'idea che innocenti non avrà vita facile a questo giro soprattutto se soffre di cervicale perché con Borgo Manelo quello lì potrebbe essere il problema principale devi stare così e questi continuano a saltare da una parte all'altra danno tantissimo spettacolo non me ne vogliano le altre ma per distacco la squadra più spettacolare d'Italia credo non penso ci sia un'altra squadra con lo stesso la stessa percentuale di Alleyup credo compito per Stella non far decollare gli avversari sì non farli saltare non sarà banale mi aspetto una partita dai ritmi altissimi perché Stella abbiamo visto come sia in grado di adattarsi a qualsiasi ritmo quindi se la partita si alza si abbassa loro comunque riescono a stare molto sul pezzo però sono dotati di una fisicità importante e quindi sicuramente se si corre dispiacere non gli fa dall'altra parte Borgomaniero invece che dichiaratamente ama correre e quindi mi aspetto veramente una partita con l'autovelox questo è il concetto prendo la multa sì sì per il caso di multa fatemi un attimo vedere perché io sono molto puntiglioso fatemi giusto fare un controllo in attesa degli ospiti proprio proprio quelli volevo vedere siete poi in 21 e abbiamo valutato che funziona scrivere in chat la squadra che ti fate il tifo per farvi sentire insomma in onore cioè in onore durante la 9 più cap ha funzionato anche parecchie volte quindi vi aspettiamo in chat e mi raccomando lasciate un bel like in modo tale che potete aiutarci con la live a farla vedere anche ad altre persone magari interagire anche loro con noi in questo prepartito in questo studio per le finali nazionali a finale delle finali nazionali assolutamente e allora se posso iniziare anche con qualche analisi tattica poi tanto le porteremo nel tempo posso dare qualche consiglio per la visione allora sicuramente una cosa che abbiamo visto è che a stella non devi far prendere il largo perché se prende il largo poi è molto bravo a mantenerlo quindi fondamentali dal lato di Borgomanero nel frattempo ah eccoli ecco perché aspettate che ve li faccio vedere anche a voi eccoli qua buonasera si vi sentiamo vi sentiamo eccoli qua ma infatti io ci avevo anche ragionato ho detto ho dato a tutti e due lo stesso collegamento in modo diverso io mi immaginavo uno da una parte della palestra uno a quell'altro che vi guardavate dentro la chiamata era bellissimo no abbiamo deciso di fare così perché sto facendo un favore a lui questo perché io non sto capace di usare il telefono però in un bagno praticamente conosciamo bene conosciamo bene Frai e le sue doti tecniche sappiamo di cosa stiamo parlando va bene allora ve li presento velocemente per la chat abbiamo Alessandro Bonotti Francesco Rossi rispettivamente direttore del programma giovanile di Stella Azzurra e responsabile tecnico del giovanile di College Borgo Manero con il direttore non è più responsabile esatto esatto allora ciao innanzitutto benvenuti e complimenti cioè in questi casi qua si comincia con i complimenti complimenti per le finali complimenti insomma per la stagione siamo alla partita più importante ci siete entrambi quindi chapeau non proviamo solo che cominciare così domanda facciamola così un pochino a entrambi tanto il concetto è lo stesso un'opinione veloce su questi finali su come sono andate insomma per squadra quindi che vuole iniziare dei due su questo percorso di Adagropoli la regia ha girato il telefono siccome lui è il direttore ha girato il telefono verso di me ma guarda io ho fatto il pendolare a Groppo di Borgo Manero perché sono stato qua tre giorni poi sono tornato indietro e sono tornato oggi per la finale quindi ti posso dire che il tempo è nuvoloso piove e che chi sperava di fare spiaggia e mare ha dovuto vedere del basket perché non era possibile Cremona però ha preso il sole noi abbiamo notato che Cremona ha preso il sole ragazzi Cremona ieri erano particolarmente arrossati ma guarda o c'era la zona est di Agropoli era forse un'altra zona perché io il sole non l'ho visto però e invece Ale insomma come l'avete vissuta lì ad Agropoli siete felici e quantomeno della finale insomma di come è andato il percorso parlavo con Alessandro comunque Fras lo vuoi dire anche te va bene però io non voglio dire la mia io la differenza sua fortunatamente non ho fatto il pendolare Roma-Agropoli quindi siamo arrivati qua domenica scorsa bene per il momento quello che abbiamo fatto penso che era quello che ci aspettavamo siamo arrivati al momento più difficile voglio fare a questo punto i complimenti qui alla prossima squadra vincitrice del Vito e a questo punto non ci resta che aspettare e vedere e non si può inquadrare più in basso comunque è una settimana che ci ritiriamo così è una settimana che ci scambiamo questi messaggi d'amore ma diciamo che noi nel discorso siamo un attimo intanto chiudiamo le porte e qui noi nel discorso siamo andati a mangiare un gelato tra l'altro ci siamo trovati con una penumara vabbè lasciamo quella la storia e già da lì diciamo era iniziato questo scotto fermaglie fermaglie spettacolare perché tra l'altro avete anticipato una domanda che mi ero scritto perché ho scritto letteralmente mi ero scritto onesti vi porto indietro una settimana e mi incontrate e vi dico andate in finale e c'è il rematch tra di voi quanto siete sorpresi di questa cosa io poco Idem diciamo un pochettino ce l'aspettavamo poi le partite sono molto complicate però un pochettino ce l'aspettavamo senza togliere nulla tra squadre e giocatori che abbiamo incontrato sia noi che loro forti secondo me le due squadre più complete più profonde e che hanno anche messo maggiore qualità sul campo sono quelle che sono arrivate in finale ora detto da me che siamo noi in finale sembra che uno voglia vendere qualcosa di più di quello che è però secondo me sono onesto è chiesto onesto questa per me e la realtà mi sorprende poco questa cosa sono contento anche di aver visto e comunque sono moltissime altre squadre che sono migliorate tanto visto dei giocatori che secondo me sono veramente forti per esempio questo Maretto che mi ha impressionato e altri giocatori come lui quindi il livello secondo me è abbastanza alto delle prime nazionali però diciamo ci aspettavamo questa finale con noi Cagliani ha fatto 47 punti stavamo per citarli stavamo per citare esattamente quella performance particolare giocare ma a proposito individuali io so che Enricchia qual è questo giocatore che rubi che rubi chi rubi di là rubate un giocatore alla viceversa allora io prendo un dirigente e le buonotte no non vale non vale non vale non vale io prendo l'assistente perché nel momento di difficoltà ha fatto vincere la partita quindi io prendo l'assistente stavolta i giocatori lasciamoli lì non si può dire non si possono dire però allora vi chiedo una curiosità in realtà che ho io personalmente sono finali under 19 lo sappiamo l'under 19 è l'ultima categoria diciamo prima delle prime squadre c'è qualcuno che queste finali non le giocherà più e vi chiedo quindi quali sono tra virgolette i piani per alcuni dei vostri giocatori chiave io penso a Innocenti e Visintin chiaramente per Stella e l'oro nel caso di Borgo Manero chiaramente stiamo chiedendo una volta e qua il Colosseo è forte a perdere giochiamo in casa e quindi la regina è in qua da lui no non capirò stavo chiedendo la porta no quali sono i piani per i giocatori che sono l'ultimo anno di Under diciamo come l'oro per il prossimo anno allora per i giocatori no guarda io spero solo che questi giocatori dopo questa finale capiscano che il loro percorso sta iniziando sta finendo e quindi è quello che faranno da qui in avanti che conta tanto e quello che spero è che possano trovare un posto dove giocare per davvero non che vanno a scaldare le panchine o a tenere i punti però che piani ci sono non so e lui il direttore mi cagli da parte nostra penso sempre che le cose succedono quindi i piani si programmarli fino a un certo punto poi bisogna essere in grado di prendere dei suoi migliori sulle soluzioni che ci vengono messe davanti allo stesso modo dico che bisogna trovare un posto dove i ragazzi possano giocare e forse mantenere quelle due tre cose che sanno fare magari far iniziare a farne più piuttosto che perderne qualcuna perché non viene permesso di farle o per altri modelli di cercare il contesto adatto per loro no è per questo che lui è il direttore no no sono due sono due risposte sono due risposte interessanti su una tematica di cui abbiamo parlato spesso ora vi lascio andare che così potete andare dai vostri dai vostri giocatori ma prima di lasciarvi andare allora non vi chiedo la previsione della partita perché tanto so che non me la dareste però siccome siamo su Italup e a Italup quando commentiamo le partite succede sempre una cosa io vi faccio una domanda secondo voi supplementare sì o no tre no bisogna tornare a casa se no facciamo troppo tardi grazie mille della disponibilità ragazzi grazie mille buona partita entrambi buon basket ciao ragazzi ciao vediamo se riescono a uscire adesso ce l'hanno fatto ce l'hanno fatto eccoci qua eccoci qua tornati ho fatto morire dal ridere ma lo sapevamo come sempre avevamo altre aspettative poi quando sono insieme insomma allora allora sì poi allora posso dire vi dico la mia onestamente sulla questione è anche bello vederli che sono così amici perché comunque è vero che è un rematch quindi sicuramente se volete c'è un po' di sana rivalità tra i due però il bello il dettaglio in realtà io l'aneddoto sul gelato l'avrei voluto sapere esatto però beh non hanno voluto non hanno voluto raccontarlo probabilmente eh sì sì allora rischiamo un attimo di risposte alla chat rispondi te perché non la so vai allora dove si può vedere la partita in primis noi vi ribadiamo che non abbiamo i diritti delle immagini di conseguenza la partita si vede solo sul canale Twitch di Italbasket quindi twitch.tv italbasketofficial trovate anche il link nella descrizione della live poi l'applicazione delle statistiche si chiama Swish sempre sul insomma sulla chat del canale Twitch punto esclamativo stats in teoria e vi esce proprio la l'applicazione la partita è alle 17.30 noi saremo qua con questo studio che continuerà anche durante la partita per un po' mostrare il chiacchierare insomma banalmente di tutto quello che può accadere prima del video prima del video volevo farti allora facciamo così uno dei due è college l'altro stella e rispondiamo alla domanda che non ci hanno risposto loro ci stai vai 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 ce l'ho tu chi sei però ti sei più giovane hai il tuo compleno ieri ti do la libertà di scelta vabbè io sono college vai e di stella scelgo devo andare su banale no devi andare su chi vuoi scegliere chi voglio scegliere per rinforzare un po' il reparto probabilmente no vabbè non ce la faccio a non dire innocenti ma giusto ce la faccio a non dire innocenti volevo provare a dire lumena per rinforzare un po' il reparto centri però innocenti in quella squadra i college potrebbe davvero essere un giocatore interessante ancora più interessante forse di stella ok potremmo vedere un modo diverso di giocare innocenti ecco non per altro ok io sono il coach di stella invece ho una squadra ho una rosa competitiva ho un roster lungo non ho problemi di lunghi assolutamente però però ci possono essere dei momenti della partita in cui so che l'altra squadra si metterà a zona e poi dopo parleremo della parte tattica so che l'altra squadra si potrà mettere a zona e so che ci possono mettere in difficoltà con il tiro da tre punti quindi ho bisogno di un clutch player ho bisogno di un giocatore che faccia dei canestri importanti sfruttando anche un tiro perimetrale che possa nascere anche da un palleggio e quindi prendo Ferrari ci sta ci sta quindi prendo Ferrari queste sono le le motivazioni la partita si può vedere su Twitch basta questa è l'ultima volta che lo diciamo il Twitch Little Basket fine ora abbiamo detto che è un back to back è un back to back è un rematch è la rivisitazione della finale che c'è stata nove mesi fa so che è nove mesi fa perché ho visto la data del video su YouTube vi facciamo vedere le immagini di quella partita eccole qui le immagini della finale dello scorso anno poi tra College che negli highlights qua vanno con la maglia blu e Stella Azzurra con la maglia bianca una finale che aveva avuto una trama abbastanza particolare nel senso che si era partiti molto punto a punto poi salita l'intensità difensiva di Stella salita la fisicità è allungato e come dicevamo un po' anche all'inizio quando Stella affonda il coltello poi è molto brava a girarci dentro proprio lo fa sentire quel coltello assolutamente dalla chat ci dicono che considerando che i decenti gioca anche in Serie A2 chiunque può servire anche una sorta di esperienza in più esattamente condividiamo in pieno la lettura ed è anche per questo che l'ha scelto il nostro Ricky e tra l'altro fu uno dei protagonisti l'anno scorso in questa partita ma in generale in tutto il torneo delle finali nazionali come lo è stata alla fine in questo tra l'altro posso dire che è stata io vi consiglio poi questa parte verrà ritagliata e ricaricata e messa su YouTube vi consiglio di andarvi a risentire le parole dei due direttori da una parte è interessante la posizione di Francesco che però abbiamo sentito in più riprese ma quella di Alessandro è molto interessante il fine della mia domanda quando l'ho scritta era proprio quella cioè andare a punzecchiare passatemi il termine però comunque è questo che si fa in fase di intervista quello quello dei due che ha la serie A2 e che quindi ha una fonte di sbocco importante dove far giocare i ragazzi che non giocheranno più l'anno prossimo quindi stiamo parlando chiaramente di innocenti ma anche dello stesso Visintin e trovo che la risposta sia altrettanto interessante da una risposta del tipo lavoriamo sappiamo che siamo forti su determinati aspetti rafforziamo nelle altre e troviamo il contesto migliore all'interno del quale possiamo andare a sfruttarli trovo che sia una risposta estremamente matura non a caso non a caso insomma il ruolo che ricopre sì infatti spero anche insomma che Alessandro veda magari questa parte intera i miei personalissimi complimenti per la risposta e per la visione eccolo non sappiamo perfettamente qual è l'ambito stella e alla fine se arrivi all'eccellenza un motivo ci sarà tra l'altro zona che veniva utilizzata anche l'anno scorso stavo notando questo particolare e sì l'anno scorso qua come vedete la partita eccolo qui qui c'è proprio il dettaglietto c'è stato non so se l'avete notato l'ultimo highlights che abbiamo visto era fino al secondo quarto il gap era più o meno all'intorno ai 10 punti poi il terzo quarto di stella il rientro dagli spogliatori di stella e i famosi buoi che scappano sostanzialmente qua poi vedremo un ultimo quarto in cui con un po' anche di orgoglio proverà a tornare sotto college con vabbè salto incredibile lo vedremo lo vedremo spesso questo poi il finale quindi quella che fu la partita l'anno scorso 99 a 74 in quel di Ragusa con i ragazzi che si portano a casa il il titolo ci sono un po' di quei ragazzi che vedremo anche oggi sicuramente l'obiettivo di vado parto col circo dell'ovvietà sicuramente il fine di Borgo Manero è quello di non far ripetere quella partita e fin qua anche se ci sono tanti appunto abbiamo detto anche prima protagonisti che si ripropongono e posso dirti un'altra cosa è molto bello anche più che altro particolare vedere la la sicurezza per quanto riguarda i coach cioè squadre di direttori di dire sì ci aspettavamo questa partita onestamente perché perché siamo le squadre migliori siamo comunque quelle più attrezzate per essere qua sì non è come hanno detto loro non è considerarsi un po' di sbruffoni insomma come si dice però la consapevolezza è aver costruito una squadra che come obiettivo ha quello e di conseguenza con tutto il rispetto verso le altre squadre è giusto che ci siano loro è giusto che ci sia un rematch assolutamente assolutamente sono le 17.10 20 minuti e la partita inizia e allora iniziamo un po' con quelle che sono le chiavi tattiche allora io ti dico Ricky perché vince Stella perché vince College vince Stella per la la fisicità probabilmente che può mettere in campo è una chiave nel togliere anche l'atletismo di di College e uno dei protagonisti che avevi chiamato te ieri ossia Lumena potrebbe esserlo anche oggi perché alla fine Ferrari ha la stessa fisicità di Dia e quindi potrebbe soffrire un fisico come Lumena potrebbe vincere College perché è una squadra che si conosce da tantissimo giocano tantissimo insieme e l'entusiasmo che può dare College probabilmente non può dare nessuno e quando volano davvero su quell'entusiasmo fermarli non è facile e allora io prima di darvi la mia risposta a questa domanda vi invito a scriverci in chat secondo voi chi vince e quindi magari mandateci un messaggio prima come so vince Stella vince College e poi mandateci perché e così c'è un minimo di confronto visto anche Simone che parlava della fortitudo allora parto dal perché vince College faccio il giro contrario College io mi sono segnato tre aspetti due sembreranno molto simili nel senso che uno ingloba l'altro ma ci dedico due aspetti fondamentali allora l'aspetto atletico l'aspetto atletico perché perché sicuramente poter essere in tutti i rimbalzi offensivi poter giocare le second chance conta e questo fa sì ma non solo il fatto che tu salti così tanto e fai così tante giocate spettacolari può galvanizzare gli altri e abbiamo visto che cosa succede a galvanizzare gli altri i quarti di finale erano persi a inizio del terzo quarto un paio di giocate che alzano il morale del gruppo esce Ferrari vinci la partita il secondo aspetto è la corsa correre è sicuramente un aspetto importante che ti permette di anticipare le linee di passaggi correre bene in contropiede riuscire a sfruttare il tuo vantaggio ma entrambi gli aspetti sarebbero nulli se non ci fosse questo gruppo clamoroso sono un gruppo enorme di amici che si conoscono da tanto che lavora bene insieme di cui anche lo staff stesso fa parte ieri ascoltavo le interviste è molto poco banale vedere un coach contento del fatto che la propria squadra salti e schiacci così tanto non lo tralasciamo questo aspetto qua nelle giovanili si è sempre avuto la tendenza a combattere la giocata spettacolare si è sempre voluti andare verso la giocata elementare ma efficace non sei in NBA esatto qui invece il coach fa parte del gruppo e stimola quella cosa lì quindi ogni volta che verrà sfruttata corsa e atletica il gruppo si galvanizzerà questo è una combo di tre elementi che può effettivamente riaccendere una partita che si spenge dall'altra parte la risposta è complicata dall'altra parte in realtà c'è sicuramente l'aspetto fisico sono un gruppo che per tonnellaggio ha pochi rivali in Italia ancora meno cioè scusate ha pochi rivali in Europa ne ha ancora meno in Italia roster lunghissimo perché anche gli under 17 come Lumena sono e come i Dark Angeli sono giocatori che possono giocare questa partita in tranquillità quindi hanno 12 elementi che portano via che possono giocare tutti e non serve che vi dica perché è importante questo aspetto l'aspetto anche in questo caso del gruppo barra mentale qua ci perdo un attimino di tempo in più come dire io quando nei miei negli eventi dove vengo chiamato devo introdurre una finale c'è una sorta di frase che dico sempre a mo' di mantra le finali le giocano i più forti ma le vincono i migliori il gap tra più forti e migliori è una linea sottilissima che viene riempita da alcuni aspetti emotivi che non si possono spiegare quando sono stato a Stella tu questa cosa la vivi la vivi proprio cioè percepisci percepisci questo aspetto hanno qualche cosa dentro che parte da quel balletto che fanno prima della partita e finisce dal fare tutti i time out in piedi dal vivere insieme hanno un gruppo forte come sono forti anche quelli di college ma io ho l'impressione e questo poi verrà smentito magari ma che questi ragazzi vengano mentalmente allenati a vincere e sono proiettati in quella direzione e quindi il plus della Stella Azzurra potrebbe essere questo cioè il fatto di ragionare alla vittoria aspetto che magari Borgomaniero ha meno ma occhio a sottovalutarli perché se si galvanizzano poi vi volano sopra la testa quindi 0-0 finisce i rigori ieri tra l'altro stavamo parlando anche ovviamente poi rispondiamo ai commenti della chat come non mettere in partita innocenti che lasciavamo come soluzione coach villa ecco mettiamola così però è un aspetto importante non far entrare in partita il miglior giocatore di Stella senza ombra di dubbio non è facile parlavamo ieri che era difficile trovare un modo per farlo zona tu hai accennato a 1-1-3 insomma 1-3-1 cioè allora sì zona sicuramente la vedremo aspettate la vedrete l'abbiamo vista anche fatta da Stella scusate da Borgomaniero giocano una 3-2 se non mi ricordo male con degli aiuti nell'angolo sicuramente la zona può combattere determinati fattori occhio però a dire che innocenti è quello che non sa tirare da 3 punti non bisogna mai scadere in questo concetto perché ieri ne ha messo due importanti e uno che ne può mettere importante ieri ce l'ha dimostrato Fresno Fresno e poi in tutto questo perché non è non è uscito diciamo di spicco né nei quarti né nella semifinale è Visintin uno che comunque a proposito di quello che diceva Aku insomma i suoi 17 18 19 minuti in A2 se li gioca quindi è un un giocatore importante che potrebbe saltare fuori da qualche in qualsiasi momento il roster lungo di Stella in questo senso è un valore aggiunto importante assolutamente dall'altra parte la scelta tecnica cioè qual è la cosa che deve assolutamente fare Stella è lavorare con un'attenzione maniacale ai tagli backdoor deve sostanzialmente evitare che saltino perché quella giocata è tanto spettacolare quanto efficace si muovono molto bene nel lato debole devono stare attentissimi squadre abbastanza equivalenti forse Stella qualche cosa in più ma bisogna vedere l'approccio mentale delle due squadre assolutamente è un ottimo riassunto un po' anche di quello che dicevo prima tra l'altro secondo me mi permetto di contraddirti leggermente AQ secondo me non è l'approccio mentale secondo me è la tenuta mentale all'interno dei 40 minuti io così vado a previsione poi mi sbaglierò faccio il cassano della situazione cioè secondo me a livello di approccio mentale probabilmente sarà più forte Stella a livello di approccio mentale college deve essere brava a reggere l'urto perché Stella entra sempre per stenderti come un rullo compressore a questo fine vuole sdraiarti stendere la reazione di college poi sarà fondamentale devi resistere di botto lì nei quarti è fondamentale fare questo lavoro nei quarti dispari quindi all'entrata in campo e al rientro dagli spogliatoi nei quarti pari è dove devi sfruttare l'entusiasmo però è chiaro che se nei quarti dispari questi hanno preso 30 punti di vantaggio puoi essere entusiasta quanto vuoi sono sempre 30 punti quindi è abbastanza difficile da recuperare a livello mentale l'impatto è quello cioè ci vuole che quando Stella fa il suo lavoro da rullo college non vada troppo indietro e poi nei quarti pari che effettivamente in qualche modo cercano di cerchino di di rientrare ecco questo è sicuramente l'aspetto importante direi che ci siamo siamo pronti un po' a seguirla insieme mancano una decina di minuti in realtà vedo ragazzi estremamente tranquilli al tiro quindi però ok 17.30 dovrebbe essere l'orario schedulato non vediamo niente di modifica quindi dovrebbe essere questa questa la strada vediamo un po' cosa succederà 17.30 17.30 ecco da questo punto di vista sull'aspetto mentale dell'approccio eccetera credo che sia molto importante ad esempio un esempio da portare Varese contro Stella tenere a punteggio basso Stella quindi rallentare il ritmo ha fatto sì che onestamente Varese nel quarto quarto avesse una chance perché Varese nel quarto quarto aveva una chance una chance che non ha sfruttato Stella è stata brava anzi è stata eccellente in quel momento della partita a riuscire ad arginare dei campioni come Seini e andare comunque a vincere e questo è il giochino comunque a cui si faceva riferimento prima lì Varese ha rallentato volutamente il gioco per evitare di far volare sulle linee dell'entusiasmo Stella e infatti assolutamente Ema sono d'accordo con te giustamente ci dice non può abbassare il ritmo Varese non può abbassare il ritmo Borgomanero come ha fatto Varese può però può però cercare di arginare sicuramente sicuramente l'entusiasmo non si può pretendere dalla squadra che si sanaturi esatto e a proposito dei quarti pari di cui parlavi te il quarto quarto di Ferrari contro Bergamo dopo i 47 di Cagliani insomma Oh saluto a Dega che è passato in diretta è passato in grande Dega è passato in diretta è quello da tenere d'occhio insomma quello che dicevi prima l'entusiasmo insomma nei quarti pari quello da cavalcare Ferrari con in quel quarto 20 punti me ne sono segnati 20 punti 5 rimbalzi 4 su 7 da 2 2 su 2 da 3 importantissimo e anche un 6 su 7 ai liberi e ci siamo e lì adesso stanno presentando le squadre in quel di Agropoli e volevo giusto capire se ci fossero delle novità ma a parte che non credo ce ne possano essere da regolamento non ce n'è i 12 sono loro interessante ecco una cosa che non abbiamo chiesto Borgomaniero ha avuto Gigo che invece fu protagonista l'anno scorso fermo in fermo i box in semifinale per scelta tecnica in realtà questa prendetela con le pinze è una cosa che teorizziamo però nei quarti fondamentale tra virgolette fu per l'accensione di una miccia un tecnico da lui preso quindi pensiamo che potessero non essere problemi fisici quelli che tenevano lontano l'ala dal campo mi sembra di averlo intravisto quindi in realtà credo che sia nei 12 non possiamo trasmettere in data la partita non abbiamo i diritti abbiamo fatto questo salotto pre partita che speriamo vi sia piaciuto io approfitto anche per mandare un saluto ai ragazzi di youtube perché questa parte la tagliamo e poi ci vediamo quindi alla prossima fateci sapere nei commenti se vi è piaciuta questa cosa se volete rivederla perché la rivedrete principalmente quindi saluto a voi e termino direi termino termino